Non è vero, come dicono, che la difficoltà rendono forti. No, le difficoltà rivelano chi è forte. Ci permettono di scoprire una forza che non avremmo saputo di avere, ma non fortificano e stancano. E le persone forti sono stanche, anche se ce la fanno. La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. E ogni volta che mi chiedono come stai, rispondo sempre bene grazie, perché penso sia inutile spiegare come sto veramente. Perché la memoria del male non riesce a cambiare l'umanità? A che serve la memoria? Sai, l'amica, quella vera, non si ferma al malinteso, ti cerca per chiarire, non cerca un pretesto per litigare, per allontanarsi da te, ti affronta, ti parla, perché l'amica, quella vera, non dimentica chi è sei. Il giorno in cui il potere dall'amore supererà l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace. Chi è da retta al cervello degli altri, butta via il suo. Nella vita, le delusioni più grandi le riceverai dalle persone a cui hai voluto più bene. Solo a loro hai dato il potere di ferirti. Finalmente ho capito una cosa. La serenità è la vera forza della vita. Mai sottovalutare le persone gentili. Non sono deboli. Sono solo educate. Viviamo in una società dove l'offesso perdona. Ma chi offende non si scusa mai. Peccato proprio. La coscienza sporca è come l'immondezia. Non puoi nasconderla per sempre. Il saggio disse quando potrei raccontare la tua storia senza versare nemmeno una lacrima. Saprai che dentro di te sei già guarito. Ci sono giorni in cui ci si sente soli. e altri in cui lo sia davvero. non cerco qualcuno che voglia stare con me voglio qualcuno che non possa stare senza di me e c'è una grande differenza. nessuno può capire quanto dolore provoca un abbraccio che ti manca. Ci sono delle persone così povere che l'unica cosa che hanno sono i soldi. La gente positiva è quella che cade, si rialza, si cura le ferite, sorride alla vita e dice ci riprovò. ci ho messo tempo ma ho imparato che non tutti sono chi dicono di essere. Picchiano il lupo finchè non li morde e poi dicono che è cattivo. è così che sono molte persone. Non aspettarti mai niente da nessuno e non rimarrai mai deluso. Grazie mille e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Restate bene. Ciao.